pensavate di conoscere tutti i talenti di hillary duff attrice cantante ballerina stilista beh sicuramente ne dimenticavate uno elettricista avete capito bene elettricista hillary infatti in occasione della presentazione della grande marce di new york contro l'hides è stata chiamata da luce al mitico empire state building che per l'occasione è diventato rosso